Inizieranno come ormai avviene da diversi anni, forse un po' troppo presto, ma tant'è, dal 6 luglio prenderanno il via i saldi estivi in Toscana. La data è stata decisa dalla Giunta regionale con una delibera presentata dall'assessore all'economia Marras. Come di consuetudine la durata degli sconti speciali sarà di 60 giorni. La data, secondo gli accordi presi in sede di conferenza delle regioni e delle province autonome, dovrebbe coincidere ogni anno con il primo sabato del mese di luglio. Per il 2023 la Commissione Sviluppo Economico, venendo incontro alle richieste delle associazioni nazionali di categoria e considerato che il primo sabato di luglio coinciderebbe con il primo luglio, data considerata eccessivamente anticipata, ha stabilito di derogare, spostando a giovedì 6, la data di inizio. Saldi che, come è avvenuto per quelli invernali, sono previsti con consumi in aumento rispetto all'anno precedente. Anche se, però, non tutte le associazioni di categoria sono del tutto favorevoli all'inizio così anticipato degli sconti che, normalmente, servirebbero a svuotare i magazzini per far spazio alle nuove collezioni autunnali, in un periodo, invece, dove ancora saremo al centro, se non quasi all'inizio, della stagione estiva.